Tutta una cosa improvvisa, in fretta, non è che ci siamo resi conto molto di quello che succedeva. Quando abbiamo visto gli incidenti, gli spari, ci siamo corsi via e potevano anche prendere i bambini, certo, caspita, poteva andare molto peggio. Stavamo tornando dal mare per venire qua a mangiare, alla mezza più o meno era. A farvi scappare erano stati gli spari o qualcosa che avevate visto? Cioè, vi eravate resi conto che stava succedendo qualcosa? Sì, è stato prima l'incidente e allora i bambini sono andati a scansare perché era quasi vicino a noi. E poi è iniziato gli spari e allora ci siamo messi a correre più veloci. Lei cosa ha provato a vedere le foto, se le ha viste di questi ragazzi? No, io non ho ancora visto niente. Ora, proprio tra i bambini, lei non ha ancora guardato niente. Non ho ancora comprato un giornale, niente di niente, non ho visto un telegiorniente. Niente di niente. Quei ragazzi che hanno fatto scoppiare tutto perché volevano i soldi per una vacanza, se lei avesse l'opportunità che cosa gli direbbe? Non ho detto niente a nessuno per qua, no. I bambini stanno bene, insomma? Sì, si erano un po' sotto sciop perché comunque hanno visto tutto. Papà e cosa è successo. Ma adesso sembra che si sono ripresi un po'. Signora.